Che ne dici se invitiamo tuo padre e i miei al ristorante stasera? Così possiamo dirlo a tutti contemporaneamente. Fermo, fermo! È la mia auto! Mi dispiace, ma è agganciata. Ehi! Ciao! È la mia auto! Papà, questo è Marcus. E questo è il padre di Marcus. Tu mi hai preso l'auto! Era un divieto, sai leggere? Noi ci sposiamo. Cosa? Un matrimonio in famiglia, martedì, alle 20.55.